Il tutto significato della scrittura Mundane legislation of God's mercy or sweet will Quindi la legislazione sulla misericordia di Dio e sul dolce volere E erano tempi nei quali i cristiani erano molti gruppi E quando provarono ad organizzarsi E per questo motivo noi abbiamo la chiesa copta, la chiesa ortodossa Più avanti abbiamo avuto la divisione con i protestanti E abbiamo anche altre scuole filosofiche Come per esempio i manichei, altre scuole che rappresentano valori più esoterici E altre scuole che in questo momento il Guru Maharaj non ricorda il nome Quindi quando vediamo che la religione si sta muovendo Escono fuori un sacco di opinioni differenti Però in un modo nell'altro la chiesa di quei giorni Si consolidarono in una struttura di potere Mentre comunità differenti Conquistando l'impero E praticamente era come un grande successo E noi vogliamo l'imperatore come parte della chiesa E l'imperatore disse Va bene Però comando io Io sto al capo Comando io E a quel punto lì la spiritualità se ne va a ramengo Però Però c'era anche una motivazione Perché prima di ciò I cristiani originali erano perseguitati Il padre Canciani ha presentato delle motivazioni Da tutti i documenti Che i cattolici romani Lavoravano in linea con l'imperatore E persecutarono i cristiani Per spreadare il vegetarianismo Allora mi sono sbagliato I persecutori cristiani lavoravano con l'impero E operavano le persecuzioni Perché i cristiani erano vegetari In other words Christians were killed By the Roman Emperor and his vassals Because they were preaching not to kill animals Praticamente i cristiani vennero uccisi dall'imperatore E dai suoi accogliti Perché predicavano il vegetarianismo Non vi suona familiare? Per esempio Adesso quelli che promuovono il vegetarianismo Sono perseguitati dalla lobby Dei produttori di carne Ovviamente Quindi è una questione di interessi monetari Non sono argomenti spirituali Però è interessante capire Sapere Che è stata la storia della cristianità Ora l'argomento spiegato in questo libro E la ragione per la quale Guru Baraja sta parlando di questo Perché vorrei che questo libro fosse distribuito in proporzione di massa Non voglio distribuire dei libri per stamparne mille copie Quindi è di mio interesse speciale in questo argomento Questo libro è stato scritto su richiesta di Guru Baraja Biswambar è stato gentile da fare questo lavoro E voi potete capire che è una facella rischiosa Che è una cosa così in confronto Il codice da Vinci Oppure il nome della rosa di Umberto Eco Rispetto a quello sono degli scherzetti Non sono solo una roba Nemmeno troppo semplice Oppure Gesù Christ Superstar Oppure Gesù Christ Superstar Oppure le storie sul fatto che Gesù abbia avuto una relazione d'amore con Maria Magdalena Che cosa sono tutte storie di forze potrebbe essere Ma forse però Però in realtà non cambiano niente riguardo alla questione finale Se questo libro fosse accettato Se fosse accettato come autoritativo Praticamente la Chiesa deve cambiare completamente È molto interessante Il padre tedesco ha parlato del fatto che la questione dell'origine che conosciamo adesso è molto problematica Ah ecco che come conosciamo le origini è molto problematica ma non è andato al fondo del problema Perché evidentemente non è informatissimo su questo soggetto Su questo argomento Chi non è... ah scusate perché lui è informato Il pubblico ha reagito in maniera differente Il pubblico ha reagito in maniera differente Il pubblico ha reagito in maniera differente Il pubblico ha un certo interesse generico sulla cristianità Quindi si tratta della storia del Vaticano dell'influenza della Chiesa nel mondo Quindi si tratta della storia del Vaticano dell'influenza della Chiesa nel mondo E cercate di capire questo E cercate di capire questo che la Santa Inquisizione in realtà non si è mai fermata Ratzinger Ratzinger, later Benedict Ratzinger, later Benedict Ratzinger, che era il Papa Benedetto Il XVI In realtà era il Capo dell'Inquisizione E per esempio Bisognerebbe capire chi c'è realmente dietro all'Opus Dei E anche il Guru Maharaj ha avuto degli incontri con loro Quando è stato ricevuto a Bukaramanga dal sindaco della città E ho ricevuto con l'onore di un città speciale città E praticamente ha avuto la cittadinanza un'ora Perché abbiamo lavorato per 30 anni a Bukaramanga contro la droga Perché abbiamo lavorato per 30 anni a Bukaramanga contro la droga L'Opus Dei si è preoccupato così tanto Che il sindaco è stato buttato fuori dal suo incarico E praticamente è stato diffidato per 10 anni a partecipare alla vita politica E qualche mese prima di questo Il sindaco aveva ricevuto il premio per il migliore sindaco della Colombia E investigando con alcuni contatti Abbiamo capito che è stato un chiaro ordine dell'Opus Dei di farlo fuori Quindi questo, le cose vanno avanti così oggi E per quanto riguarda altri gruppi I gruppi di armi Quelli che sono dietro a tutti i giochi sporchi I giochi di uccisione Loro non sono né quelli che fanno le armi E nemmeno qualche ideologia E queste sono solo cose di facciata Dietro c'è un'oligarchia Dietro c'è un governo di pochi Che combatte per mantenere il proprio potere sopra il mondo E questo è un diretto attacco a loro E' un attacco diretto perché va tutto indietro Va fino all'inizio della cristianità Quando questa stupidaggine fu istituzionalizzata Qual è la stupidaggine? Due stupidaggine Gesù è morto per i vostri peccati Non c'è proprio nessuna verità in tutto ciò Ovviamente uno lo può anche dire Gesù è morto per i nostri peccati Perché l'hanno fatto fuori Perché lui predicava contro i peccati Quindi in questo modo puoi dire Beh, ha fatto una pubblica statement Che non dovresti morire E l'hanno fatto fuori Allora uno in questo senso lo può anche dire Lui era pubblicamente contro il peccato E loro l'hanno fatto fuori Però che lui è morto per i nostri peccati Come è interpretato dalla cristianità Potete vedere Solamente dire mi dispiace Gesù è già morto per voi Quindi voi sarete perdonati Questo è un errore molto serio Siddhantik Siddhantik significa final philosophical conclusion Questo qui è un errore serissimo sul Siddhanta Siddhanta significa conclusione filosofica finale La tattva viveca è la conoscenza della conclusione ultima Se noi applichiamo tutto ciò a questa dichiarazione Che ti puoi fare Puoi uccidere, puoi fare tutte le porcherie che vuoi Perché se sei cristiano Tutto poi andrà a posto E's un'バ tease E' una stupidità E' una stuvigità E' una stupità E' una stupità E' la stessa cosa stupida E' un musulmano E' la stessa cosa stupida E' la stessa cosa stupida E muore per Allah E' la stessa cosa stupida è veramente un'idea astratta però è la cosa che insegnano ai buoni parole sui cili qual'è il problema? ti ammazzi e poi in paradiso trovi quanti sono? 80 18 18 18 questo è ciò che succede in questo mondo di stupido fanatismo e tutto ciò purtroppo è connesso al fatto che muore un sacco di gente tutti i giorni anche fino ad oggi se noi semplicemente mettiamo su qualche privata interpretazione delle scritture e chissà a chi importa però il fatto che la cosa importante è che sulla base di tutto ciò questi vanno avanti ad ammazzare la gente loro continuano a fare tutto quello che gli passa per la testa quindi dire che Gesù è morto per i vostri peccati è la cavolata numero uno la cavolata numero uno che è stata perpetrata fino a questo momento è tu non sei responsabile per ciò che fai semplicemente devi appartenere alla Chiesa semplicemente devi dire io accetto Gesù e a quel punto non devi più essere responsabile individualmente per quello che fai e con questo insegnamento hanno ammazzato lo spirito dell'evoluzione del migliorare come hanno fatto? come hanno fatto? o diventi un cristiano o vai eternamente all'inferno oppure vai eternamente all'inferno per questa proposizione per questa proposizione hanno mandato la maggioranza dell'umanità all'inferno sicuro non so come tantissima gente si può sfruttare all'inferno e quindi Guru Maharaj dice ma quanta gente c'entra in questo inferno? il diavolo sarà terribilmente indaffarato per toccare tantissime persone per dare spazio a tutta lo fede eternamente oh mamma mia insomma è uno dei modi di capire quanto è scena un'idea del genere ma ancora questi la sostengono e questa è la cosa sorprendente della stupidaggine quindi chiamare questo libro l'invenzione dell'inferno praticamente dai un cazzotto già il titolo è un cazzotto e il cazzotto è così forte che praticamente manda a capo l'intero operazione se loro hanno inventato l'inferno semplicemente per schiavizzare la gente e allora praticamente tutta la faccenda completa è non autorizzata e questo è l'argomento di questo messaggio perché ci mancherebbe altro noi non vogliamo certo togliere alla gente la fede in Gesù noi non vogliamo rendere felici nessuno noi non vogliamo che nessuno sia felice però se qualcuno vuol credere in Gesù che almeno sia cosciente del significato originale di ciò e l'insegnamento dell'incarnazione della reincarnazione in accordo ad origine è praticamente l'applicazione pratica della legge del karma e si tratta di dire che nascere come un animale è una reazione per aver fatto delle stupidaggini nella vita umana e quindi questa è parte dell'insegnamento cristiano della reincarnazione e quindi questa è parte dell'insegnamento cristiano della reincarnazione e quindi si tratta appunto di portare avanti questo discorso della responsabilità di ogni anima individuale bisogna capire quindi dopo tutto questo che le anime che sono nei corpi umani sono esattamente come le anime che sono nei corpi umani e trattando in maniera crudele e uccidendo gli animali praticamente tu sprechi il diritto della forma umana e ti stai creando la tua vita animale futura e ci sta che sarai ucciso come adesso tu uccidi gli animali ma tutte queste comprensioni sono state eliminate da giustiniana e quindi venne fuori quest'idea l'imperatore decide chi va in paradiso lui fa le regole e lui dice e lui dice Gesù è morto per i vostri peccati quindi voi continuate ad andare in chiesa pagate le tasse e vai in paradiso e questa faccenda è veramente molto seria e non solo in Italia in tutto il mondo perché quando noi sentiamo dire delle religioni del mondo noi diciamo cristianità islamismo ed ebraismo ma che tipo di religione sono se seguono questo però che accipicchia di religioni solo se solo questo e anche i musulmani hanno effetto su questo perché loro e i cattolici e i protestanti hanno copiato questi errori perché loro i protestanti i tartolici hanno copiato questi errori il prossimo passo che noi dobbiamo promuovere in un modo che non sia associato con i devoti di Cristo altrimenti perché sennò perde potenza perché sembrerebbe una lotta di religione perché questa non è una lotta di religione è una lotta contro la colossale ingiustizia che è stata perpetrata dalle cosiddette religioni al mondo è una lotta contro la colossale ingiustizia e questo libro e questo libro ci sarà gente che semplicemente veramente vorrà che sparisca e non sarà nemmeno il primo libro che sparirà se succedesse e quindi per fare in modo che questo non succeda noi dobbiamo introdurre l'argomento di questo libro in scuole, università, radios e a ogni livello possibile nelle scuole, nell'università, nelle radio ad ogni livello possibile funziona così miutti mi scusi mi sposti mi puoi dare un po' di tempo mi puoi dare un po' di tempo per favore leggi questa libro se è vero noi dobbiamo cambiare tutto il modo di pensare nel mondo se è una cavolata se è una lucia semplicemente dobbiamo continuare a vivere nell'illusione della quale siamo adesso leggilo ti chiamo fra un paio di giorni ti va di fare una discussione lo farai un programma radio? scriverai nel tuo giornale a proposito di questo come questo spingere e proporlo di fronte a 200-300 persone e in questa maniera spanderlo diffonderlo a tanti livelli che una persona che legge questo non sarà più interessata che praticamente il libro sarà ovunque e uno avrà da affrontare la realtà quindi a quel punto la conoscenza sarà disponibile e cosa può fare uno per questo? solo io lo so ma la coscienza di Krishna però la coscienza di Krishna si dice il modo originario della cristianità i catari i catari erano loro che parlavano della cristianità originale e sono stati ammazzati di tutti e quindi loro chiesero al Papa non siamo proprio sicuri di riconoscere chi è cataro e chi no e il Papa disse il Papa disse kill them all God knows who are his people voi ammazzate voi ammazzate quelli che vi capitano sotto mano e sottotiro e Dio lo sa chi sono i suoi e chi sono catari quindi questa è la storia dell'atto di eliminare la reincarnazione quindi non pensate che questo sia un argomento da poco e il Guru Maharaj ha chiesto specificatamente a Vishwan Ba di scrivere questo libro e ha fatto in modo che venga pubblicato non dai devoti ma i devoti dovrebbero essere gli attivisti per piazzarlo a poco una persona che non ha letto questo libro è ignorante e non ha la più pallida idea del perché la gente oggi è così fuori di testa perché non si tratta solo del fatto che uno può sin autorizzazione ad uccidere per autorizzazione della Chiesa e ha anche a che vedere col fatto dello strapotere delle istituzioni per quanto riguarda la giustizia in questo senore le tulasi diventano una cosa troppo tropicale vedete che tulasi sono già un'adoratrice del sole mi stanno facendo dandavat al sole mi stanno facendo dandavat al sole quindi per questo motivo quindi il Guru Maharaj si è congratulato con bisogno e voglio che voi siete parte di questa campagna di illuminazione e ora ci vorrebbe un bravo traduttore che traduca in inglese e è stato sorprendente che lui per me mi secondeva che abbia pubblicato questo libro anche nella storia cristiana c'è stata molta discussione sul vegetarianismo praticamente tutto il tempo quando si è discusso di una cristianità seria sempre alcune persone dicono che abbiamo bisogno di mangiare la carne e se ad un certo punto è uscito fuori qualcuno noi dobbiamo smettere di mangiare la carne è per questo motivo che per esempio i benedettivi o altri ordini monastici cristiani hanno cominciato a essere vegetariani Vishwambar ha parlato anche di questo libro e Vishwambar ha parlato di questo libro anche in altri libri quindi anche queste ricerche sono connesse quindi la serietà o la non serietà quando hanno a che vedere con la spiritualità anche questo è in esame e anche all'interno della nostra comunità stiamo affrontando e per esempio in India adesso tanti hinduisti sono diventati non vegetariani ma ancora si fanno chiamare hinduisti quando c'è stata l'invasione musulmana dell'India i musulmani prendevano il hindu e li forzavano a mangiare carne di mocca e dopo aver mangiato un pezzo di carne di mocca e dopo aver mangiato un pezzo di carne di mocca non era ancora accettato come un hindu nella comunità hindu quindi questa persona non veniva più accettata dagli hinduisti e non veniva più considerata hinduista in questo modo così stupido milioni di persone sono stati fuori dall'induismo un sacco di gente è stata portata via dall'induismo e convertita all'islamismo e voi li potete trovare ovunque sono tutti hinduisti che sono stati fatti diventare musulmani a forza questo libro dovrebbe andare insieme all'altro quindi abbiamo due letterature fantastici se volete pensare in questo modo entrambe è come se fossero state scritte da me ma siccome io non le ho scritte il meraviglioso Vishwan Bar ha messo queste energie perché è sparito dalla circolazione anche il libro di padre Canciani quindi per questo motivo noi siamo molto grati che esiste questo libro ma se non lo distribuiamo è come se non lo distribuiamo praticamente è come se non esistessi quindi adesso noi dobbiamo fare il punto e vediamo Grazie.